Ciao Matteo Reteghi, adesso ti spieghiamo cos'è questa rubrica del nostro Riccardo Montolivo che ha una considerazione da cui partire per coinvolgerti, prego. No, la considerazione che ho fatto anche al tuo allenatore, cioè che credo che in questo momento per caratteristiche credo che sei la candidatura migliore per la nostra nazionale. No, no, tu hai detto un'altra cosa. Il 15 no. Giugno? Ah, il 15 giugno sarà titolare in Italia-Albania. Ok. Facciamo rispondere lui che lo vedo un po' emozionato. Doveva salire sul monte o sul carro? Sali sul carro? Cosa ne pensi delle parole? Sì, più o meno. Che grazie mille, che lo voglio tanto, però bueno, faldano tanti mesi per giugno e per giulio. Primo, devo tenere la testa qua nel club, nella squadra, che sono partite molto difficili, che stiamo giocando. E dopo, primo, giociamo uno amistoso con Ecuador e Venezuela, penso. E dopo vediamo. Lo voglio tanto, lo sogno tanto. Vado a intentare fare la cosa bene con la squadra per dopo andare a nazionale. Però bueno, lo so che è difficile, però bueno, lo voglio tanto. Tra poco ti lascio alle domande dello studio, perché abbiamo tante cose da farti vedere. Ma resto su questo argomento qui, no? Perché ha parlato di te Spalletti ultimamente. Ha detto, l'ho visto bene in allenamento, l'ho visto bene anche in partita, sta tornando in reteghi che conosco. Il gol di questa sera fatto in questo modo, diciamo che conferma l'impressione del CT. Sei tornato in reteghi che conosciamo. Sì, sono molto grato con la parola del mister. Dopo l'infortunio, fu difficile tornare a tenere fiducia per la paura che mi ha fatto il ginocchio. Però bueno, ora con tutti i ragazzi, con tutti l'officio, con il mister che mi ha dato tanta fiducia, e sono tornando a essere di nuovo io, a essere contento di disfrutare in campo. Sono molto contento per il momento che stiamo vivendo da tutta la squadra, perché abbiamo bisogno di punti importanti e sono contento. Marco? Ci racconti da dove nasce l'istinto di fare quella rovesciata? La cilena. L'istinto. Quando vedo la palla che va sopra, l'unico movimento per calciare la porta era la cilena. Non lo pensé. Fui l'istinto e calcè. E sono molto contento. Allora, guarda, il tuo allenatore poco fa qui con noi ci ha messo un po' per, rivedendo la tua rovesciata, ma rivedendo una sua rovesciata nel dire sì, probabilmente la mia era più bella, vabbè, lui non si offenderà. Giudica tu, guarda qua. Che gol ha fatto Alberto Girardino in un Lecce-Parma? Oh, no, no, bellissimo. No, è il mister più bello. Però bueno, sono a tempo di ugualarlo. Sì, sì, assolutamente. Ale Matri. Sì, ciao Matteo. Ciao. Ti volevo, abbiamo parlato prima con appunto con mister Girardino e ci parlava che vi state molto allenando sul modo di migliorarti anche nel gioco fuori area, nel gioco di dialogare con la squadra. Ma quando ti alleni, quanto pensi a migliorarti sia per la tua squadra ma anche ad adattarti al modo di giocare della nazionale? Perché comunque sappiamo tutti che Spalletti ha un modo diverso di giocare rispetto a quello che tu fai con il Genova. Con il mister e tutti le staff facciamo allenamento speciale per lo attaccante. E bueno, per me è molto importante perché io vivo di questo. Io lo so che allenamento, allenamento, giorno a giorno, è più importante perché tutti abbiamo cosa per migliorare. sia del controllo, di anticipo al primo palo, al primo palo, al secondo, giocando dei pivot, giocando per la squadra, andare fuori dall'area di rigore, tanti cosa. E bueno, giorno a giorno con tutti le staff e il mister e stiamo allenando per essere un meglio calciatore e una miglior persona e uomo anche. Ciao Matteo, alla prossima. Scusami, a proposito di nazionale, mi ricordo che c'era stata un po' di polemica per la questione inno. Tutto a posto? L'inno nazionale? No, tutto a posto, sono tranquillo. Hai imparato a memoria. Vogliamo... Ma la PlayStation gioca. Esatto. Cosa ne pensi di questa cosa qua? Non so se hai sentito le parole di Spallottini. L'intervista del mister. Sì, l'ho sentito. Io non gioco alla Play. Non lo so. Telefono, spazio. Allora salgo sul carro di monto. Bueno, bueno, grazie mille. Ciao, alla prossima. Matteo Reteghi. Ciao, alla prossima.